Allora, al governo noi chiediamo sempre maggior impegno nei confronti dei giovani che sono il futuro del nostro paese, a tutti i livelli, a livello scuola, dopo scuola, aiuto alle famiglie, perché queste possano, soprattutto le famiglie immigrate, possano integrarsi nel migliore dei modi. Ed è una richiesta che facciamo, questo governo, ma per tutti i governi, perché sono problemi e problematiche che non si risolvono nello spazio di una legislatura, ma si risolvono chiaramente in maniera generazionale e quindi l'impegno deve essere continuo e costante.